Uno speciale polifemo dedicato agli sforzi che i comuni stanno mettendo in campo, stanno profondendo per affrontare l'emergenza Covid. La problematica è mondiale, parliamo di una pandemia, però bisogna anche apprezzare quei comuni che davvero stanno facendo i salti mortali con sacrifici per dare delle risposte sanitarie, ma mi permetto di dire innanzitutto apprezzabili sotto l'aspetto umano. Siamo qui a Palagiano, ho al mio fianco l'avvocato Domiziano Lasigna che è appunto il primo cittadino, il sindaco di Palagiano e stiamo nella struttura del drive-thru in via Sansonetti, angolo Viale Chiatona, per descrivere un po' questa struttura che tra un po' sarà operativa. E allora, sindaco, uno spazio enorme, devo dire che davvero avete fatto i salti mortali e non era semplice. Sì, non era per nulla semplice, innanzitutto grazie per l'attenzione che rivolgete alla nostra comunità. Non era semplice, abbiamo voluto allestire uno spazio con l'aiuto degli enti superiori, in particolare con il supporto delle nostre protezioni civili della comunità di Palagiano che hanno allestito uno spazio che adesso vedremo, sarà appunto il nostro drive-thru dove sarà possibile eseguire tamponi in questa fase appunto emergenziale direttamente in autovettura entrando qui nello spazio della farmacia Giacovazzo che è uno spazio privato ma messo a disposizione della comunità entro il quale sarà possibile appunto percorrere un percorso segnato e con le autovetture sarà possibile fermarsi nella struttura. Vediamo intanto lì abbiamo l'entrata, attraverso appunto quel cancello si entrerà e poi ovviamente ci sarà tutto il percorso, verrà ovviamente ora la strada è sterrata ma verrà realizzato appunto un percorso attraverso il quale, seguendo il quale le macchine arriveranno diciamo alla tenda. Allora sindaco avviciniamoci, facciamo tutto così in ripresa e in diretta live, ecco vedete questa tenda. Allora quanto tempo c'è voluto per allestirla? Quali soggetti sono stati coinvolti, cointeressati? Noi abbiamo innanzitutto raccolto l'invito dei medici di famiglia di Palagiano subito dopo l'accordo sottoscritto in Regione attraverso il quale appunto i medici di famiglia insieme ai pediatri potranno eseguire e processare i tamponi ci siamo attivati come amministrazione da una parte nel reperire l'attrezzatura attraverso, ripeto, le protezioni civili ed anche attraverso forze dell'ordine che ci hanno permesso l'uso temporaneo di questa tenda galleria che ci permetterà appunto il passaggio delle auto, la protezione delle operazioni di tamponamento. Il tempo è stato un tempo diciamo abbiamo lavorato almeno 15 giorni per riuscire ad organizzare il tutto ce ne sono voluti una settimana di tempo per l'allestimento e adesso siamo in attesa che l'ASL consegni i tamponi ai medici che hanno le loro basi operative, i loro uffici, i loro studi medici esattamente qui all'interno dello spazio Giacovazzo e quindi giunti i tamponi ai medici di famiglia 40 tamponi a medico per iniziare, l'amministrazione ha voluto supportare l'operazione rendendosi disponibili all'acquisto di altri 1000 tamponi ad integrazione di quanto l'ASL consegnerà ai medici di famiglia e si procederà poi appunto in questa struttura a processarli. L'area di Taranto, la provincia di Taranto, compreso ovviamente la comunità di Palagiano ha pagato e sta pagando pesantemente, sta subendo pesantemente i colpi del Covid, parecchi casi però queste realtà danno la fiducia, danno la speranza, fanno sì che il cittadino non si trovi solo, non si trovi disperato anche perché stiamo parlando di una pandemia di patologie che anche agli studiosi stessi, agli scienziati stessi molte volte sfuggono di mano. Assolutamente, l'operazione del drive-thru è innanzitutto un'operazione sociale appunto è un supporto sanitario certamente ma è una presenza dell'amministrazione ma non in quanto operato politico proprio in quanto operato sociale, cioè dire che l'amministrazione c'è ed è attenta ad un fenomeno che ha colpito particolarmente Palagiano. Palagiano ha avuto dei numeri importanti nelle settimane scorse noi abbiamo toccato anche punte di 150 nostri concittadini positivi che rispetto alla comunità di Palagiano 16 mila abitanti è un numero di tutto rispetto. Abbiamo ridotto molto, l'ultimo report di ieri porta a 52 positivi ed è chiaro che questa riduzione è stata anche frutto di una serie di provvedimenti assunti però l'amministrazione doveva dire e ha detto di esserci al fianco dei nostri concittadini noi abbiamo bisogno di monitorare la situazione palagianese perché non solo i nostri concittadini positivi ma un pensiero va a quante famiglie in queste ore stanno piangendo morti per Covid noi abbiamo nostri concittadini che hanno purtroppo subito conseguenze, famiglie che hanno pianto i loro deceduti per Covid e quindi era necessario dare anche una testimonianza di vicinanza a queste famiglie. Avviciniamoci così a questa tenda, allora qui arriveranno le auto, sosteranno e quindi all'interno della stessa verranno appunto eseguiti, processati i tamponi, magari così facendo un salto al futuro quando speriamo che davvero la completa diffusione dei vaccini potrà davvero far sì che questo Covid-19 sia un brutto ricordo e basta pur avendo lasciato dei segni permanenti e a livello di perdite di vite umane e a livello proprio di sofferenza fisica ma anche soprattutto anche psicologico magari in un futuro potranno essere praticati qui, ma stiamo parlando di ipotesi e non sono certo un tecnico della materia, potranno essere praticati qui le operazioni di vaccino? Sì, noi diciamo abbiamo dato la nostra massima disponibilità ai medici per cui tutto l'aspetto sanitario, i processi medici e sanitari saranno gestiti direttamente da loro noi siamo presenti perché siamo al loro fianco così come loro sono al nostro fianco abbiamo iniziato un percorso, parlo dei medici di famiglia che hanno immediatamente dato la disponibilità qualunque forma di operazione, ecco perché questa sinergia ha prodotto innanzitutto questa opportunità perché come dico sempre io, in qualunque circostanza, anche tragica come quella della gestione di un'emergenza Covid quello che occorre è l'opportunità, un'amministrazione deve dare l'opportunità poi è chiaro che i cittadini potranno coglierla, potranno valutarla e io mi auguro che i risultati arrivino il prima possibile perché è chiaro che la situazione sta diventando complicata Ecco Sidaco, volevo anche soffermarmi un po' sugli aspetti sociali perché parliamo di situazioni in cui ovviamente la patologia implica l'assoluto isolamento l'apporto e il supporto che l'amministrazione sta dando perché ci sono poi magari tanti soggetti fragili non solo fisicamente, anziani, soli che giustamente non possono avere il contatto diretto con i familiari in questo caso ovviamente i servizi sociali svolgono un ruolo fondamentale Sì, i servizi sociali stanno svolgendo un ruolo fondamentale il governo devo dire non ha fatto mancare il proprio supporto dal punto di vista di risorse perché ha contribuito in maniera importante a che le amministrazioni comunali potessero dare risposte alla sfera del bisogno Noi su Palagiano abbiamo certamente investito quelle risorse su tutti quei canali di supporto al bisogno buoni alimentari, spesa sospesa, supporto rata fitto, una tantum per chi ne ha bisogno Insomma abbiamo attivato tanti bandi e tanti avvisi per dare quel supporto economico ma non solo alla nostra comunità ma mi piace pensare e ricordare sempre l'operato delle nostre protezioni civili Io torno a questo tema Questo volontariato che si sposa con le istituzioni, un connubio fantastico Perfettamente, il volontariato che supporta l'amministrazione, supporta tutti quei canali di sostanza rivolti alla nostra comunità ma senza il loro aiuto noi non avremmo potuto operare come abbiamo operato Abbiamo attivato il cosiddetto numero di comunità un numero di cellulare a cui ogni cittadino può chiamare per rivolgere alle protezioni civili Quindi ogni richiesta di aiuto e nei limiti del possibile la risposta c'è con l'aiuto anche delle forze dell'ordine, polizia locale e carabinieri che ci supportano in maniera fantastica Allora Sindaco, scopriamo un po' faccia da padrone di casa Ora sorridiamo perché è un momento brutto però questo è un messaggio di speranza ed è uno strumento di salvezza perché la prevenzione è importantissima Assolutamente, noi abbiamo voluto allestire questo spazio e attraverso il drive sarà possibile entrare direttamente nella struttura di decompressione che è una tenda voluta e costruita dalle nostre protezioni civili sarà possibile entrare qui dove ci sarà un'area di decompressione rispetto poi agli studi medici che sono alle spalle esattamente della tenda di decompressione Quindi sì, sì, possiamo entrare Ecco, qui stiamo entrando ci diceva giustamente l'operatore vediamola, vediamola dal vivo de Vissu e quindi qui la camera, no? La tenda di decompressione Sì, sì, qui ci sarà l'attrezzatura necessaria per le operazioni di tamponamento che si svolgeranno all'interno della galleria mentre da quest'altro accesso sarà possibile poi arrivare direttamente Agli studi medici Agli studi medici Ecco qui Ecco Quindi c'è l'accesso diretto a tutti gli studi Chiaramente lo spazio dovrà essere completato con dei gazebo di passaggio ma voglio dire la struttura è questa La chiudiamo Sì E quindi certo che un bel lavoraccio è stato fatto anche in tempi abbastanza rapidi e ora bisognerà poi, come dire, passare nel momento in cui l'ASL sarà pronta passare proprio all'operatività, alla realizzazione Certo, certo Riteniamo che dalla prossima settimana la struttura entrerà ufficialmente in funzione e dopodiché inizieremo perché ecco, lo scopo dell'operazione come ci siamo detti tante volte anche in ASL in riunione con il management dell'ASL è proprio quella di supportare gli enti sanitari l'ASL di Taranto in particolare il Dipartimento Prevenzione di Massafra che è oberato chiaramente di lavoro perché Palagiano converge su Massafra quindi l'idea è quella di fare uno screening preventivo per eventualmente inviare in analisi con tampone molecolare direttamente i soggetti che risulterebbero non negativi all'antigenico rapid test che faremmo qui Ecco, sindaco, ora abbiamo visto tutta questa parte diciamo questa struttura qualche episodio che l'ha colpita particolarmente in questi mesi di Covid anche considerando quelli della cosiddetta prima ondata qualche aspetto che l'ha colpita nel rapporto diretto con i cittadini anche perché lei chiaramente amministra una comunità che non è una grandissima comunità quindi in una realtà come Palagiano il rapporto diretto il sindaco è un amico del cittadino non stiamo a Roma Capitale qualcosa che dal punto di vista umano l'ha colpita e le ha anche dato soddisfazione perché poi il sindaco è come se fosse dovrebbe essere lei certamente lo è un padre di famiglia una persona che guida la comunità con quello spirito del bonus pater familias Devo dire che ricordando un po' questi mesi in mente mi tornano le scene ultime devo dire perché in questa seconda fase noi abbiamo subito come ho detto prima delle perdite persone anche vicine, amiche persone conosciute dalla nostra comunità quindi riuscire a conciliare tutto la gestione del fenomeno la sofferenza della perdita le conseguenze legate alla perdita immaginiamo le cerimonie funerarie per esempio limitate la gente che aveva bisogno di salutare il defunto abbiamo avuto momenti difficili che ho vissuto personalmente come momenti di sofferenza personale ma d'altro canto bisognava e bisogna continuare a dare alla comunità quella speranza quello spiraglio di speranza necessario per poter dire ce la faremo ma ce la faremo realmente poi sono accadute anche cose simpatiche di gente che ha usato ogni forma di canale comunicativo per avanzare qualunque tipo di richiesta anche magari poco conferente rispetto al problema Covid tanti anziani hanno chiesto che io stesso andassi a trovarli insieme ad alcuni rappresentanti della nostra amministrazione proprio per le ragioni che ci siamo detti un piccolo paese ci conosciamo tutti allora quanti abitanti fa Palagiano? Palagiano fa 16.100 abitanti piccolo piccolo non è piccolo piccolo non è ma è un paese dove ci diciamo ci conosciamo tutti in un modo o nell'altro siamo un po' tutti parenti per cui diciamo accade che una famiglia allargata una comunità allargata e a me piace viverla così la mia comunità una famiglia allargata dove mi capita di essere invitato a pranzo o a cena o meglio prima accadeva a casa di miei concetti torneranno questi tempi torneranno me lo auguro me lo auguro il prima possibile e allora sindaco stiamo per concludere questo nostro speciale un appello affinché non si abbassi la guardia perché ripeto la prevenzione il rispetto tra virgolette passatemi l'espressione maniacale delle prescrizioni è fondamentale al primo sintomo occorre attivare tutto l'itere quindi questo drive-thru è prezioso in tal senso ecco quello che mi preme lanciare un appello perché ripeto non abbassiamo la guardia perché il virus è micidiale il virus aspetta ogni nostra minima distrazione pensate un po' è un virus che colpisce tutti anche i medici pensate all'amico e persona che stimo tantissimo il dottor Balzanelli direttore del 118 eppure parliamo di un direttore ma è un virus che non guarda in faccia nessuno non abbassiamo la guardia ricordo un invito che mi è stato rivolto quando abbiamo iniziato l'operazione drive-thru dal dottor Vincenzo Mottola che coordina un po' i medici di famiglia mi ha detto il virus è troppo veloce quindi dobbiamo provare ad essere un po' più veloci anche noi cioè la burocrazia la pubblica amministrazione la risposta della gente rispetto al rilevamento dei sintomi come dicevi bene tu Luigi bisogna essere attenti presenti non bisogna abbassare la guardia non bisogna dare nulla per scontato e soprattutto non bisogna considerarla vinta la partita c'è ancora tanto da fare noi stiamo facendo il possibile ma bisogna continuare a lavorare in questa maniera guardia alta e assolutamente ogni minimo sintomo deve essere segnalato ai medici di famiglia innanzitutto e poi via via con le procedure previste ci fermiamo qui sindaco e lancio un'idea quando sarà tutto finito beh qui si potrà fare una bella festa una bella mangiata e festeggiare lo scampato pericolo non aspettiamo proprio qui vogliamo fare qui una bella torta per ringraziare tutti dall'amministrazione al singolo volontario anche il quisque de popolo il cittadino più apparentemente insignificante che ha dato il suo contributo abbracciarci e ritornare a vivere la vita perché poi lo dico anche per esperienza diretta molte volte nella vita si dà tutto e troppo per scontato e poi quando si perdono quelle cose che si danno per scontato poi ci si sente la mancanza delle stesse questo è un impegno che assumo che assumiamo certamente ci possiamo ritrovare qui quando tutto sarà finito ed effettivamente mi auguro che questo dramma che stiamo vivendo un po' tutti con varie responsabilità varie intensità sia utile quantomeno a comprendere questa cosa appunto nulla deve essere dato per scontato ed anzi bisogna apprezzare il valore di quello che si ha nei limiti in cui appunto lo si possa vivere intensamente per cui mi auguro che questa torta possa giungere in questo posto il prima possibile a a a Grazie per la visione!